servi schiavi servi discepoli servi schiavi schiavi come potete dare ancora retta a questi giornalisti come potete dare fiducia a questi giornalisti amici ma soprattutto nemici piangoneri buon pomeriggio ragazzi buon pomeriggio c'è in questa settimana l'argomento fondamentale principale è stata la scommessa allegri mi tirato in ballo pesantemente pesantemente da fabrizio corona con tanto di video con tanto di accuse e non ci fosse stato ci fosse stato un giornalista che gli facesse la domanda ma come risponde a questa illazione no questo sapete perché perché il foglietto il foglietto che viene consegnato all'ingresso della sala stampa continassa c'era scritto al primo che fa una domanda sul casino e sulle scommesse di allegri sarà bannato sarà cacciato via da questa conferenza stampa e non sarà più presente questa è la verità e questo è è degrato questo è degrato ragazzi questo è degrato è degrato e non voglio usare la parola più pesante ma non è più democrazia la comfort zone vi rendete conto o opzione b opzione b se ci fosse stato un altro allenatore metteteci stare al posto di allegri la conferenza stampa si sarebbe aperta mister lei che cosa ci faceva a sanremo a monte carlo scusate che periodo vero come mai lei come può parlare di fagioli dopo che lei è un accanito giocatore d'azzardo lei che si gioca a 200 300 mila euro lei che gioca da quello che si è visto da quello che si dice anche in serie b mi ci gioco le palle mi ci gioco le palle qui nulla addirittura fagiole 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 con uno che gioca si gioca tutto si gioca tutto perché così è inutile che mettetele sotto la sabbia è inutile che cercate di nascondere la verità ma questo signore questo pseudo allenatore che non sa neanche quale formazione mettere in campo la prende la prende così con assorteggio assorteggio non solo che prende per il culo ma è un grandissimo giocatore ed è un grandissimo brutto esempio è inutile che adesso venite qua a commentare no qua là tu stai sbagliando è la verità lui è un brutto esempio e me ne prendo la responsabilità al 100% è un brutto esempio perché questo è un giocatore incallito che sa prende per il culo e c'è i media naturalmente che lo proteggono ma non cambia la sostanza quindi come potete dare retta a questi giornalisti che si fanno forza su youtube che si fanno forza sui social facendo facendo il loro il loro inconfiandosi il petto e poi di fronte alla realtà di fronte all'essere professionista al 100% ti fai consegnare il foglio e te lo infili nel culo ma si ci ingazzati fino alla fine viva il professionismo serio